Penso che, come avrebbe giustificato Maria tra un giorno, due o tre, la presenza anche sui social in compagnia di un'altra donna dopo tutto quello che è successo la settimana scorsa? Fammi parlare, fammi parlare, fammi parlare perché se è così grande l'amore quello di cui tu parli, prima o poi posterai qualcosa insieme a sta ragazza e anche per strada. Allora venire qui e Jessica parla di tempistiche, è vero? Perché per fare una scelta importante c'è bisogno anche del tempo per capire, ok? Ma io non posso? Settimana scorsa ti sei attaccato al luogo, al luogo, ma i fatti, al luogo, ma i fatti c'erano, erano quelli, ora viene qua e ti viene a pulire. Ma veramente? Ma ancora? Sei tu che volevi sapere? No, ma veramente ancora? Eh, ma perché parli con Maria? Guarda a me. Scusate. Hai fatto teatro, ti sei pulito? Teatro. Ti sei pulito? Ma Armando sei quattro anni? Non sono problemi tuoi che sono quattro anni qua dentro, non sono problemi tuoi, non sono problemi tuoi, non sono problemi tuoi, non hai fatto altro che fare la differenza con gli altri uomini qua dentro. E nel periodo in cui, nel periodo in cui, guarda a me, con me, con me, parlo di me, parlo di me, parlo di me, parlo di me. Adonai, ti sei divertito, scusami, ti voglio bene, lo sai. Quando hai capito che potevi tornare, abbandoni il programma. No, ma questa persona è una persona nuova. Punto. Ma ancora si è dicendo questo? Punto, Maria, non mi fai andare oltre perché divento scostumato. Punto. 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 Punto.